ragazzi ormai le parole sono inutili ormai le parole sono inutili perché avevo visto settimana scorsa con le state bianche appunto ha trionfato a Siena e oggi si porta a casa la tappa reggina di questa Tireno Adriatico dove appunto aver scalato il Carpegna due volte il Carpegna trionfa e praticamente ha letteralmente vinto ormai la Tireno Adriatico qua c'ho il computer con le varie classifiche ha letteralmente scavato una voragine tra sé e il secondo in classifica ragazzi che dire è un campione non c'ha senso se li hai lasciati sul Carpegna sulla seconda scala del Carpegna quando c'era Michel Landa a fare l'andatura ho detto ok hai finito Michel fuoricino Michel sul podio hai finito? ok adesso posso fare io e me ne vado e in due minuti alla fine del Carpegna si era già preso un minuto su tutti un minuto abbondante veramente sembra riduttivo cioè rende inutili le prestazioni dei suoi avversari le rende minuscole le rende infime le rende umane cioè sembra un essere nudo da un altro pianeta vedi le scala di Landa le prestazioni di Landa Port Ringgard e ti sembrano prestazioni sportive blande semplici cose banali perché se avessi relazioni con quello che fa Pogacar è letteralmente di un altro pianeta cioè disumano disumano diciamo che facciamo forse non vi ho neanche salutato preso appunto dalla grandezza di tale codicore comunque lei è venuti su Molino Sport e vi dovessi scala e qui c'è un nuovo video sull'arrivo di Landa quinta tappa quinta non mi ricordo comunque tappa regina io mi sono collegato verso il quantesimo chilometro quando mancavano 40 chilometri c'era la prima scalata al Carpegna davanti c'erano i fuggitivi con Alaphilippe Queen Simmons Aramburu Cosnefro è un altro della Movistar che non ricordo mi ha sorpreso Queen Simmons un motto e anche Aramburu Alaphilippe si è dovuto staccare poco subito poco dopo Queen Simmons ci ha dato sono rimasti appunto Queen Simmons e Aramburu che non me lo aspettavo così forte in salita Queen Simmons è riuscito a staccare tutti i suoi compagni di fuga prendersi il primo postaggio al GPM poi ha provato a continuare nella propria azione ma dietro la UAE la Bahrain che volevano tentare di vincere la tappa si sono messi davanti e hanno recuperato il distacco sul primo Carpegna si sono messi davanti i Bahrain per favorire appunto favorire Michelanda Daviero Caruso mi pare che sbaglia la curva quindi va a lungo quasi così tentava di cadere nel frattempo era scattato davanti sempre nel gruppo Peio Bilbao per tentare di diciamo togliere le castagne dal fuoco alla Bahrain in modo da mandare diciamo a far tirare il gruppo la UAE e poi appunto si arriva diciamo alla scalata definitiva del Carpegna dove tutto si immaginava come da pronostico si sarebbe appunto decisa la tappa Giulio Ciccone fa una manovra un'azione che non capisco una scelta tattica strana molto strana come è solito fare dalla Bruzzese perché appena inizia il tratto duro del Carpegna lui attacca che senso ha infatti subito dopo quando sei partito Michelanda letteralmente subito dopo sei staccato perché sai di non avere le gambe perché attaccare perché sfregare quelle poche energie gestisciti non lo so dice io ci ho provato perché se attacchi io non riesco a capirli perché sono attacchi fini a se stessi fini a se stessi non capisco Michelanda appunto come diciamo risponde a Ciccone meta il gruppo diciamo seleziona un botto il gruppo fa staccare Aresman fa staccare tutti gli altri uomini di classifica restano davanti solamente solamente appunto Vingegaard appunto Landa Vingegaard e mi pare Rishi Port che lentamente piano piano con il suo passo di esperienza riesce a recuperare a rientrare appunto nel gruppetto principale che nel frattempo precedentemente avevano recuperato Queen Simmons dietro il gruppetto di Indley Aresman Pinot si appalla diciamo formano un gruppetto che tentano di non perdere troppo terreno rispetto appunto agli uomini di classifica ben più importanti ecco c'era Mas ecco perché non me lo ricordavo perché appunto coloro appunto Codesti vanno avanti vanno avanti a un certo punto e quando appunto Michel Landa aveva ormai terminato la propria azione detto Pogac ci avevamo detto appunto nell'intro del video Pogac ci aveva detto è finito ed è partito lui e Talin poi non ce n'è stata ragazzi non ce n'è stata perché letteralmente ha spianato la salita l'ha spianata distrutta aperta incredibile cioè dopo appunto alla fine come diciamo appunto nell'intro dopo la fine della salita aveva un numero di vantaggio e poi ha dovuto amministrare e si è guadagnata appunto la vittoria di Dappa nella Dappa appunto regina di questo tirreno adriatico dietro purtroppo Mass in discesa è vittima di una caduta arriverà veramente malconcio al traguardo speriamo non sia nulla di grave per il corridore spagnolo della Movistar che potrebbe essersi rotto la clavicola e per come era diciamo come stava andando questo inizio di stagione non si prospetta spero non sia nulla di male perché appunto Mass è comunque un corridore che non ha mai gli acuti però è sempre lì è sempre lì mi sta anche molto simpatico dietro comunque Vingegaard resta appunto Vingegaard Landa e Port Vingegaard un po' stizzito perché mi ero un po' incavolato con Landa per la scelta diciamo tattica di attaccare per tutto il carpegnino di lasciare l'azione in mano a Pogacar però Vingegaard rispetta gli anziani diciamo del gruppo Landa 20 anni di esperienza è più di te fagli fare quello che vuole lui l'annino fallo fagli fare quello che cavolo vuole non mi toccare Michele povetino che già lui appena lo sfiori gli dice qualcosa lui mattina con la nuova lui già a terra è distrutto povetino quindi non ti incazzare ti stai prendendo contro la persona sbagliata poveraccio comunque a un certo punto io sono andato in bagno avevo dei bisogni fisiologici mi sono dovuto allontanare diciamo dalla visione della tappa torno e vedo che porta si era staccato non ho ben capito non lo so che gli è successo ho fatto male una curva da quello capito e le fatte appunto Vingegaard e Landa si erano avvantaggiati e ovviamente in volata Landa in un gruppo da sei corritori arriva settimo viene battuto da Vingegaard che si prende la seconda posizione terzo Landa poco dietro Port che arriva a 31 secondi da Landa quindi non riesce a prendersi il podio e vabbè quinto Daviano Caruso sesto Ingle settimo Pinot ottavo Giulio Ciccone nono Peio decimo Arisman che oggi si trovava mi pare in terza posizione e ecco appunto altro vittimo grandissima vittima di giornata Remco Efenepul che arriva addirittura dietro scusate Domenico Pozzolivo a 4 minuti e 0 andiamo a vedere la classifica generale Pogacar ovviamente ormai ha praticamente vinto la triera triatico secondo Vingegaard a 1,52 Landa a 2,33 Ricciport a 2,44 per 11 secondi appunto Ricciport non riesce a guadagnarsi il podio domani domani appunto ci sarà l'ultima tappa a San Benedetto del Tronto da San Benedetto del Tronto a scusate non lo so a ok da San Benedetto del Tronto a San Benedetto del Tronto si terminarà questa edizione della dell'Ateriano Adriatico e che dire ragazzi corsa sempre top a livello anche di parterra l'anno scorso è stata a livello ancora superiore per rendere l'idea l'anno scorso con Van Der Poel Van Aert Pogacar e tutti gli altri quest'anno però comunque Pogacar e Pogacar e Landa e Port e chiunque altro e Ving e tutti gli altri e comunque sempre la Tronto ha sempre un parterre d'eccezione comunque a vincere la Punti probabilmente sarà la Punti e sarà Pogacar chi potrà mai essere e sono contento per Queen Sim per quanto non mi piaccia come idee personali e qui Sim bisogna vincere la Maglia Verde di Milio Scalatore e ovviamente ragioni chi può non vincere se non il bambino prodigio il ragazzo prodigio il ragazzo prodigio comunque like commento iscrivetevi prima per questo video si inizia a entrare nel momento clou della stagione iniziano a azzarsi la temperatura ragazzi state con Molino sporciane state con lo sport che non vi sbagliate mai ciao ciao